vediamo chi c'è oggi in questo studio buongiorno guardate chi mi ha portato guardate c'è l'idea qui eppure vengo da così lontano tanto leggera da stare in una mano di illuminati pensatori nel loro tratto elegante per venire fuori fisionomia, la mia, la mia perfino dentro l'arte ho preso energia da storici critici e letterati lo so che i termini sono cambiati vorrei abitare le tasche dei ragazzi i loro sogni, le stanze, vuote e sorvolare tutti quei palazzi per un momento salire sul vento e indicare signori di qua, signori di là signori di qua, signori di qua di là in questo secolo del più furbo io cerco anime scusate il disturbo coinvolgere anche l'indifferente col mio vestito più trasparente forse sono viva e solo soffita e però ditemi dove sono fini anche per me i uomini si sono immolati e mille altri sacrificati nei loro giorni rinchiusi di cella dentro preziosi diari consumati ma non avete un po' di nostalgia della bellezza, dell'onestà, della poesia e anche di una lacrima negli occhi asciutti di villania signori di qua, signori pietà signori pietà signori pietà signori pietà Fisiologia, la mia, la mia, da non vedere quasi neanche chi io sia Sono risposta alle tante domande, sono il pensiero che al cuore si allea Mi presento, sono l'idea 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 L'idea